Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa quinta lezione sui tutorial degli alimentatori. Allora, nei video precedenti siamo partiti dalla definizione di alimentatore, dalla loro classificazione, da vedere che cosa c'è, come si possono fare gli alimentatori e abbiamo iniziato ad esaminare quelli non stabilizzati, quindi con raddrizzamento a semionda e a doppia semionda. Per quanto riguarda invece gli alimentatori stabilizzati, dobbiamo dire che nascono ovviamente dall'esigenza di risolvere i problemi che quelli non stabilizzati hanno, quindi i loro difetti. Quali sono i difetti? Allora, intanto andiamo a vedere un attimino i difetti di quelli non stabilizzati. Allora, abbiamo visto, come abbiamo già visto negli esempi precedenti e nella teoria, che il valore della tensione di uscita non è legato a quello che è un preciso riferimento, ma dipende dall'ampiezza della tensione di rete, quindi abbiamo una dipendenza del valore di uscita da un qualcosa. Poi abbiamo la presenza del ripple, cioè questa ondulazione residua nella tensione di uscita. Questa si può risolvere utilizzando dei filtri, cioè il filtro capacitivo con un valore di capacità molto alto e quindi ovviamente è un problema già trovare il discorso del condensatore di capacità elevata e poi soprattutto il costo, quindi anche queste inconvenienze, in questo inconveniente. E oltretutto, altro inconveniente, altro difetto, è che l'ampiezza di questa ripple, di questa ondulazione residua, dipende dalla corrente che viene assorbita dal carico. Quindi, in questo caso, il discorso della stabilizzazione nasce appunto da risolvere queste esigenze. Quindi, andiamo a vedere nel video di oggi la parte degli alimentatori stabilizzati, iniziando da quelli che hanno una regolazione di tipo lineare. Ci vediamo tra un attimo. Bene, quindi abbiamo detto, vediamo che cosa sono i regolatori lineari di tensione. Allora, anzitutto, come si definisce un regolatore? Un regolatore non è altro che un sistema retorazionato. Ricordiamo, retorazionato vuol dire che io porto quello che è il valore, in questo caso di tensione dell'uscita, in qualche modo lo riporto sull'ingresso, in modo da riuscire a mantenere un valore prefissato della tensione di uscita anche in presenza dei disturbi. Poi, vediamo come viene fatto in diversi modi. Però, fondamentalmente, la retorazione mi permette di fare un confronto tra quello che è la tensione di uscita che io vorrei e quella che in realtà ho, e quindi di fare un aggiustamento. Nello specifico, un regolatore di tensione, quindi questo regolatore è una definizione generale. Quello che è un regolatore di tensione, viene detto anche stabilizzatore, è un quadripolo, quindi vuol dire due poli in ingresso e due poli in uscita, ed è quello che vedete qua in rosso, un blocco regolatore, che ha in ingresso un valore di tensione, ha in ingresso un range di tensione variabile, un certo intervallo, quindi che andrà da una tensione minima a una tensione massima, mentre in uscita il valore di tensione è preciso, del valore definito dalla pregettazione, quindi un valore preciso e predefinito, e questo valore dell'uscita è un valore stabile, molto accurato, molto preciso, che è oltretutto indipendente dalla corrente assorbita dal carico. E quindi vedete che abbiamo già gli aggiustamenti di quelli che sono invece le problematiche degli alimentatori non stabilizzati. In più mi permette comunque di, ovviamente, utilizzare delle capacità più basse, e quindi anche questo è ovviamente una risoluzione di un problema. Che altro dire? Abbiamo detto, appunto, il tipo di retrazione, ovviamente, è una retrazione di tipo negativo, quindi che mi permette di fare un controllo e un aggiustamento, quindi ho un... vado a vedere, a leggere, diciamo, il valore istantaneo, istantaneamente, il valore dell'uscita. Lo confronto poi con un valore di riferimento e, alla fine, vado a vedere qual è la differenza delle due, a fare il mio aggiustamento in modo che la tensione di uscita mi si mantenga del valore desiderato. Vediamo nello specifico questo, perché il discorso del blocco regolatore, abbiamo detto, dipende da che tipo di regolazione c'è. La regolazione lineare, quindi quella che prendiamo in esame oggi, ha questa caratteristica, che quello che è l'elemento di controllo è praticamente... ha il comportamento praticamente di un resistore, quindi di un resistore di tipo variabile, quindi varia a seconda di come voglio andare ad aumentare o diminuire la tensione dell'uscita. quindi il discorso di questo regolatore, fatto a... simulato come un resistore variabile, può essere ovviamente collegato in due modi differenti rispetto a quello che è tra il filtro e il carico. Quindi questo blocco può essere o in serie al carico, quindi ovviamente in serie al segnale, in serie al carico e quindi attraversato dalla corrente che va al carico, oppure può essere in parallelo al carico, quindi ha la stessa tensione di uscita del carico, ma una parte della corrente viene assorbita. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, abbiamo visto, come abbiamo detto, nei regolatori lineari l'elemento, ho scritto quello che ho detto, praticamente si comporta come un resistore variabile in grado di modificare il suo valore in modo da aumentare o diminuire la tensione di uscita a seconda delle esigenze, e il regolatore può essere inserito in serie in parallelo al carico. Ora, qua ho messo semplicemente un elemento di regolazione, un blocco generale, poi vedremo le varie tipologie che ci sono. Allora, nella stabilizzazione in serie, quindi con lo stabilizzatore in serie al carico, come in questo caso, abbiamo semplicemente che è come avere un resistore variabile in serie al nostro carico e questo riesce a modificare in qualche modo il suo valore in modo da compensare quelle che sono le variazioni sia del carico, della tensione riuscita dipendentemente dal carico, oppure delle variazioni dell'alimentatore, sempre dell'alimentazione, quindi della tensione di ingresso, sempre questo con lo scopo di andare a rendere stabile la nostra VL. Per quanto riguarda invece lo stabilizzatore in parallelo, generalmente, a parte appunto le varie configurazioni, però uno schema generale può essere questo. Allora, abbiamo l'elemento di regolazione appunto in parallelo con RL, però abbiamo questa situazione, abbiamo la corrente qua e il blocco regolatore che assorbe una parte della corrente, quindi qua avrò una I, mettiamo IR, qua avrò una I totale, una I generica e ovviamente la I sarà la somma della IR e la IL. Con lo stabilizzatore in parallelo, ovviamente, avrò la potenza dissipata nel regolatore massima se i morsetti dell'uscita sono aperti, quindi non ho il discorso di un carico. Per poter ovviamente regolare la VL, la tensione di uscita, però ho bisogno di avere una caduta di tensione in serie, quindi essendo l'elemento di regolazione in parallelo e non più in serie come qua, qua ho bisogno comunque di inserire una resistenza sulla quale appunto avviene la caduta di tensione, proprio per poter poi aggiustare quella dell'uscita. Bene, ok, diciamo che in questa prima classificazione generica direi che ho detto tutto, spero di essere stata chiara, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo per il prossimo video per vedere quelli che sono i parametri dei regolatori prima di andare a vedere nello specifico gli schemi.